Il ringraziamento alla collega Laura Ferrara è enorme per l'impegno e la grande passione con cui ha affrontato questa relazione a nome di tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle. Toccherò temi che sono stati toccati poco in questa discussione. La famosa criminalità dei colletti bianchi, toccata peraltro invece con profondità. Corruzione, riciclaggio di denaro, evasione ed elusione fiscale, reati forse di minore impatto emotivo ma che proprio per questo in modo vile subito uccidono quei diritti fondamentali e quello stato sociale di cui stiamo parlando oggi corrodendolo dall'interno e drenandone le risorse, abbandonando gli emarginati, i rifugiati e i più deboli al proprio destino. Sono spiacente, Commissario, ma purtroppo gli sforzi e gli strumenti in campo non sono stati sufficienti neanche lontanamente. Ogni forma di tolleranza, involontaria o volontaria cicità, di indifferenza è intollerabile, anzi è complice. Con questo report, con questo voto vorrei colleghi che il nostro Parlamento mandasse per una volta un messaggio chiaro. I veri valori europei sono quelli che non si possono depositare in un conto corrente perché non hanno prezzo e nemmeno colore politico. Ricordatelo alla vostra coscienza quando premerete quel testo domani e fate la cosa giusta. Grazie, od erovole Castaldo.